Capitana subito in lancio, ora per Liage, Adam e vita a go! Goal! 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 Adam! Adam! Il gol! Primo gol stagionale per Adam Liage! Oggi ha avuto la fiducia da parte di Rudy Garzia, era già entrato dal primo minuto nella gara contro l'Empoli, oggi è con al fianco il capitano eccolo lì, è il lancio del capitano centralmente è arrivata Demliaic il sinistro, non da scampo a Mirante Roma in vantaggio, 27 minuti di gioco nel corso del primo testo è pronto Pjanic vai Giotto minuti 42, 15 sono i secondi c'è anche Olevas parte Miralem il tiro, go 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 Giotto Giotto Giotto, gol dei suoi è il gol dei suoi, questo l'ha disegnato nell'aria, l'ha disegnato nell'aria, lui solo riesce a fare queste cose, al 42esimo minuto, il gol di Miralem Pjanic il gol